In questo mondo ci sono i buoni e ovviamente i cattivi. E non mi farò estromettere con prepotenza. Era la parte dell'uomo. Oh, cavolo! La reciti o no? Certamente. Ma io non mi farò estromettere con prepotenza. Scusi se la interrompo, sua moglie è in linea sulla 2. Quello che a me interessa sono parti vere. Ho solo 83 dollari sul conto in banca e non so se riuscirò a pagare le bollette questo mese. Ruth, c'è un'audizione. Stanno cercando donne non convenzionali, qualunque cosa significhi. Salve signore, sono Sam Silvia. Questo è Glow. Scusi, cos'è Glow? Le grandiose lottatrici del wrestling. Stai cercando attrici che interpretino le lottatrici o veri lottatrici? Avanti! Sì. Tu! Cristo. Attrici del cazzo. Voglio presentarvi la nuova star di Glow. Debbie Gunn. Non vorrai scherzare. Perché lei è ancora qui? Lei è l'Alfa e tu sei l'Omega. Sottomettiti. Ti potrebbe uccidere. Lui è Sebastian Howard, il nostro produttore. Questo è il mio primo party di Hollywood. C'è droga nel fottuto robot. Grazie. Nel wrestling servono i tipi. È una festaiola sexy. Lei un'araba. No, intendi gli stereotipi. Sì, perfetto. Esatto, ecco. Lei un'energumela nera. Che cazzo hai detto? Lottatrici di wrestling. Le donne possono fare ciò che fanno gli uomini, bla bla bla. Com'era? Mi ha fatto paura. Sì, non avevo dubbi. Siamo potenti, siamo le eroi. Vuoi che la trasmissione si faccia? È l'unico posto in cui posso fare quello che voglio. Mi rispettano molto qui. Abbiamo solo cinque settimane. Questo posto può diventare insignificante o epico. Rendiamolo maestoso. Sangue. Tette. Una narrazione. Una narrazione. Oggi parliamo di giustizia. Parliamo di tenerci stretta alla proprietà. Signore e signori, vi presento le gloriose lottatrici del wrestling. di giustizia.